Presidente, il Made in Tuscany può essere il motore di ripartenza dell'economia toscana? È l'elemento su cui io punto di più per l'economia toscana, perché è indubbio che la fase della ripartenza, della ripresa, è una fase che si accompagna a un trend nazionale. L'Italia è il paese che in questo momento ha la condizione migliore sul piano della prevenzione vaccinale e quindi subisce meno il condizionamento nella sua mobilità e nell'agire del suo popolo rispetto a quelle che sono le problematiche della pandemia. Non dimentichiamoci, come eravamo l'anno scorso, con imprese chiuse, costretti tutti a stare in casa con le zone rosse. Questo sta accadendo in altri paesi europei quest'anno, soprattutto nei paesi del centro e dell'este dell'Europa. Noi invece stiamo procedendo bene, proprio perché abbiamo ben impostato la campagna di vaccinazione. Ma se questo vale per l'Italia, la Toscana è un elemento di attrattiva e conseguentemente ecco il Made in Tuscany nei nostri prodotti. Che si tratti di prodotti agroalimentari, dove sono gli IGP e le forme di denominazione protetta e controllata in Toscana 89. Il tutto fra prodotti agricoli che a partire dall'olio, dal vino, rappresentano un elemento fortissimo di traino verso le esportazioni. Quando in occasione della mostra del Brunello qualche giorno fa si è parlato di un aumento delle esportazioni del 45% e ho citato il primo che ho pensato. In realtà noi ci troviamo di fronte a un agroalimentare italiano di grande richiamo e con dei numeri da capogino anche rispetto ad altre regioni italiane per le sue esportazioni. Ma esportazione significa anche prodotti con alto valore aggiunto, di robotica, informatica, di applicazioni a quello che è il circuito produttivo e sotto questo aspetto nei luoghi produttivi di distretto deputati a quell'altra specificazione indubbiamente il trend dell'esportazione è molto forte. Che si tratti del tessuto, che si tratti dei prodotti artigianali, delle calzature. Naturalmente io penso anche a un sistema di esportazione che poi fa i conti con quello che è una bella presenza di materie prime. La Toscana, ad esempio, anche distretti come quello della Carta vedono avere le nostre imprese sempre più forza. Insomma, il Made in Toscani, che io voglio tradurre in capacità di produzione giuridica, chiamandolo valore toscano, è qualcosa che davvero contribuisce molto alla nostra spinta propulsiva in termini di espansione della nostra economia.